di raccontarvi una piccola storia. La storia è questa. Una giovane sposa, in stato interessante, fu un giorno recuperata in un ospedale per un semplice attacco dal medicito. I medici dovessero applicarle del ghiaccio sullo stomaco, sulla pancia e alla fine di questi trattamenti i medici le consigliarono di abortire il bambino. Le dissero che era quella la soluzione migliore perché il bambino sarebbe nato sicuramente con qualche infermità. Ma la giovane, coraggiosa sposa, decise di non interrompere la gravidanza e il bambino nacque. Quella signora era mia madre e il bambino ero io. Sarò di parte, ma potendo riposentire, che quella scelta fu una scelta giusta. E mi avevano sistemato! Ringraziamo la fondazione Francesca Rava perché per lei ha fatto questo video. Grazie. È davvero per me emozionante. Non potete immaginare le donne americane come mi adorano. Quando io vado là, perché mi porta spesso Andrea, mi ha tolto tante soddisfazioni. Ma questa storia che è andata a finire oltre l'oceano, è una cosa che mi fa tanta, tanta, tanta pubblicità. Vabbè, a noi ci ha fatto molta emozione perché è veramente una bellissima dichiarazione d'amore per la vita. Viva la vita! Allora...